Vittoria eccellente, quella sfoggiata ieri pomeriggio al paraferraro di Cosenza dalla deseta casa con Advena contro il Messina. Vittoria doveva essere vittoriestata, Cosenza conquista tre punti importanti affondando la pallavolo Messina di coach Ferrara. Match a senso unico con il Cosenza che ha condotto e dominato la partita dall'inizio alla fine. Una squadra il Messina giovane, sicuramente con delle caratteristiche particolari, proprio perché è giovane, incappa spesso in errori banali. Però sono ragazzi che crescono, che possono mettere in difficoltà e soprattutto si possono galvanizzare con l'entusiasmo, capisci? Possono portare la partita punto a punto e poi lì diventa dura. Bravi i miei a mantenerli sotto, a forzare nei momenti opportuni e è andata bene. Venivamo da una partita contro il Pulsano non giocata, contro una squadra di tutto rispetto anche se formata da tantissimi giovani e noi non aspettavamo altro per rimetterci in marcia e per continuare il cammino verso una vetta che cercheremo di raggiungere il prima possibile. Ottima reazione e segnali positivi provenienti dagli uomini di Marano dopo la sconfitta rimediata contro Pulsano due settimane fa. La squadra russo-blu ha facilmente controllato una partita giocata per lunghi tratti a ritmi blandi e con la pallavolomissina in netta difficoltà quando di fino e co decidevano di alzare il livello di gioco. Le impennate della squadra abruzia sono risultate letali per i peloritani apparsi in esperti e un po' intimuriti. Noi non guardiamo la classifica che incontriamo, cerchiamo sempre di fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto stasera soltanto che stasera ci hanno messo molto in difficoltà quindi giocando poi durante la partita qualcosa si è visto nel terzo set ma anche in altre fasi della squadra della partita abbiamo potuto fare qualcosa però ovviamente le differenze erano enormi non solo di classifica ma anche di organizzazione di squadra. Tre punti secondo posto in classifica e testa già alla prossima contro Casandrino Napoli. Coaccio Marano parte con una novità in sestetto, al centro gioca testa grossa ex del match con Spadafora titolare al posto di Sviriglia infortunato.